Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Perdonatemi il ritardo di una settimana, ma vi ho spiegato i problemi logistici che ho avuto nel settare la postazione una volta tornato qui a Napoli per le vacanze di Natale, ma eccoci tornati con il secondo episodio del Miglioro le vostre squadre e tattiche, rubrica nella quale vi do una mano appunto con le vostre formazioni e vi ricordo che per poter partecipare dovete andare a lasciare un messaggio qui nei commenti indicandomi qual è la vostra squadra, con che modulo la ibridate, che è fondamentale, con che modulo giocate e appunto quali sono i vostri crediti a disposizione per eventuali migliorie. Detto questo, mettetevi comodi e vediamo subito quali sono i fortunati prescelti di oggi. La prima squadra è di Alessandro Rossetti, che si presenta con Mignano tra i pali, Mendy Pavard, Cuon De e Dest a comporre la linea difensiva, a centrocampo con Petri e Ben Nasser con Ribéry e Iconé sull'esterno, Griezmann e Giair Zigno lì davanti. Il budget è più o meno di un milione che ha a disposizione e io onestamente i cambiamenti che andrei a fare sono i seguenti, perché Dest fa un po' di fatica arrivati a questo punto del gioco, così come Pavard non è propriamente il mio difensore preferito, nonostante sia anche gratuito, quindi non male. Anche Ben Nasser direi che è arrivato abbastanza al capolinea, stesso discorso per Mendy perché poi vedrete. Quindi come primo giocatore che andrei a inserire, come terzino destro metterei Carvacal, perché nella versione Pat to Glory è un buon terzino destro, nella tua squadra ci calza al pennello, fa bene entrambe le fasi e quindi andrei con lui. Andrei poi a rimpolpare il resto del centrocampo con De Jong, anche in questo caso versione Pat to Glory, che assieme a Pedri ti dà quantità e qualità veramente da vendere, con questi due giocatori qui. Come difensore centrale vado a mettere Tomori nella sua versione If, che mi è piaciuta di più rispetto a quella Wild Card, mentre come terzino andiamo a mettere Theo Hernandez, in maniera tale che poi mettendo un bel allenatore inglese di Serie A, ce li hai anche tutti quanti a tre e secondo me fai un bel upgrade. La seconda squadra è quella di Benito Crispo, che più che un team completo ha tutta una bella serie di non scambiabili di base dalla quale partire, per cui schiera Alisson tra i pali, Theo Hernandez versione dei mondiali, Viera e Touret a centrocampo, Neymar e Alouaran sull'esterno. Tomori è il primo acquisto che farei per rimpolpare la difesa e un altro giocatore che andrei a prendere, proprio nel reparto difensivo molto sottovalutato per me, è Laporte. Nella sua versione World Cup Stories, secondo me è veramente tanta roba. E chiaramente, da un giocatore del City all'altro, andiamo su Walker come terzino, che per me questa versione base rimane una roba fuori di testa. Lì davanti, i gemelli diversi andiamo a mettere, perché avendo un bel budget a disposizione di quasi 2 milioni, il primo che non può mai mancare, io credo che sia Kylian Mbappé, che prende anche una bella intesa da Neymar, e il suo gemello diverso, chi è uscito da poco, ovvero il buon Lacazette, che ha 5 di skill e 4 di piede debole, un po' di type simile, magari meno esplosività, palla al piede, ma finalizza molto bene e si muove anche discretamente, quindi io l'andrei a chiudere così, secondo me vai perfetto. Questo team è quello invece di Davide Fierro, che in porta a schiera, Ederson difesa con Cancelo Cordoba, Koulibaly Walker, centrocampo Viera Tiago Kuit, davanti Neymar Mbappé Foden, e modulo utilizzato 4-3-2-1. Io sinceramente, avendo più o meno un milione di budget, aspetterei un attimo e farei un doppio upgrade, perché alla fine ho indicato con un milione e 4 i due giocatori che vorrei andare a prendere, eliminerei il buon Tiago, che sinceramente non mi fa impazzire, e così come andrei a sostituire Neymar. E come li cambierei? Innanzitutto qui andiamo a prendere il buon Ginola, che schieriamo punta con Vapé Foden laterali, e a centrocampo invece a dare una mano a Viera e Kuit, un giocatore molto più a tutto tondo, che a me fa impazzire, a tutt'ora ci ho fatto circa 1500 partite, che è Kevin De Bruyne If, in maniera tale che hai Viera centrale, De Bruyne e Kuit come mezze ali, con Kuit che è più o più veloce, e ripiega in fase difensiva come esterno, e vai una bomba. Il quarto team invece è quello di Riccardo, che in porta schiera Ederson, Cap De Vila, Kim Bempe, Varane, Dest a formare la linea difensiva, mediana con Viera, Park Ji-sung e Dempsey, lì davanti invece, Ribery, Smolarek e Messi a fare calcio. Il budget a disposizione è di circa 2 milioni, e onestamente io qui partirei dalle fondamenta per andare a migliorare questa squadra, perché Kim Bempe e Varane base, sinceramente, non possono circolare, e io ti andrei a mettere il secondo difensore più forte del gioco, ovvero Lusio nella sua versione 89, e dico secondo semplicemente perché il 90 è più forte. Vicino a lui, per una questione di intese, ci andiamo a mettere la Port, nella versione World Cup Story, a questo punto diventa superfluo il buon Dest, che sparisce con un colpo di spugna e viene sostituito da Hakimi, in maniera tale che diamo anche una mano a Messi a livello di intesa, poi un'altra carta che non mi fa impazzire è quella lì di Dempsey, che sostituirei invece con Neymar If, e poi qui vai a scegliere tu, se avere Hakimi e Ribery a 2, o piuttosto mettendo Donnarumma, hai Hakimi a 3 e Laporta e Ribery a 2. Io ti dico che gioco con Koulibaly a 2, di intesa, quindi il problema del difensore centrale è relativo, valuta allenatore argentino, campionato Ligan. Quinto team di Giuseppe Di Marsilio, che ha in Porta Mignan, difesa composta da Gosens, Tomori, Van Dijk e Dest, centrocampo con Benazer, chiesa figo e uno spazio da riempire, Giroud e Dybala lì davanti. Una formazione che, diciamo, presenta diverse cosette, che si potrebbero migliorare, però con i 110.000 crediti che più o meno Giuseppe ha a disposizione e che mi ha detto, io andrei a riempire quel buco andando a fare quella che è l'SBC di Angel Di Maria. Visto che, diciamo, la tua base di serie A mi sembra solida, hai anche Dybala, che è argentino, quindi magari ti puoi spendere anche come link in un'ibrida più avanti, sinceramente Di Maria, col 5 skill 4 piede debole, ti può fare sia all'esterno, sia che eventualmente la mezzala, qualora giochi anche con un centrocampo a tre. Quindi io andrei a optare per una scelta di questo tipo. Poi, piuttosto che avere quel Van Dijk a zero d'intesa, puoi andare a fare un ulteriore cambio e magari sostituirlo con un difensore di serie A. Penso, per esempio, su tutti ad un Kim del Napoli, nella sua versione, anche in questo caso, pat to glory, e ti vai a chiudere sta squadra. L'ultima squadra di oggi è quella di Stefano Musicco, che ha in porta Donnarumma, terzino sinistro Teo, Lucio, un buco da riempire, Walker, centrocampo con Park Ji-sung e Vieira, 2 milioni di budget a disposizione e quei tasselli lì a centrocampo in attacco da riempire. Allora, io partirei dal difesa e quel tappo lo andrei a chiudere con il solito Laporte, per due motivi. Innanzitutto, perché con Lucio, secondo me, formano un'ottima coppia. E poi, perché, per una questione di intesa, che a brevissimo vedremo, ci torna molto, molto, molto utile. Mi ha detto che gioca con il 4-3-2-1, quindi, i due centrocampisti, al momento, sono Vieira e Park, e il terzo, io andrei a schierare Kevin De Bruyne, che appunto, si lega bene con Laporte e con Walker, hai praticamente due terzi, anche del centrocampo, che compone la mia squadra, che è tantissima roba, e secondo me, lui è uno dei giocatori che, nonostante sia uscito a inizio gioco, fa ancora adesso la sua sporchissima figura. Lì a sinistra, andrei a posizionare Neymar If, molto versatile, che te lo vai a giocare da ATS, visto il suo 5 di piede debole, mentre da ATD andiamo a mettere il buon Lacazette, che ripeto, io consiglio tanto perché mi ha stupito, non mi aspettavo fosse così valido, e poi con 2 milioni di budget, arriviamo a 2 milioni e 3, ma penso che, essendo passati 9 giorni, magari, tra premi Rivals e WL e qualcosina, hai tirato su, in una squadra come questa, non può che mancare Kylian Mbappé, così hai praticamente tutti quanti i reparti buildati, e puoi anche pensare di cambiare modulo, perché eventualmente con un 4-4-2 potresti anche mettere Park Jisung un po' più avanzato come esterno. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, io vi ricordo che, come al solito, mi trovate in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, più o meno dalle 7 del mattino fino alle 14-15, quindi anche se non vedete qui magari delle risposte, potete venire a chiedere in live, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Riberoski e a presto. Ciao! 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 ! Ciao!